Bene, ci siamo incremate tutte, siamo pronte per andare in spiaggia al sole, giusto? Sì, e tra poco imbarca. E dopo imbarca, quando gli uomini si danno una mossa, perché noi siamo super attive. Super pronte, già dalle 8 del mattino. Allora, sfida della week è far uscire gli addominali alla fra di B. Ce la faremo! Ce la faremo sì. Ce la faremo! Però mi devi ascoltare stavolta. Certo, io ti ascolto sempre. Sì, va l'acqua. Bello! Oggi siamo messe male, eh? Ehi tu, ancora non sei iscritto al nostro canale? Lo so, può capitare di fare cazzate. La vera domanda è... Che stai aspettando?